Due cose da non fare mai in SketchUp sono queste. La prima è dimenticarsi di chiudere totalmente l'oggetto. Come se io prima di esportare mi dimenticassi di che questa faccia qua per qualche motivo non si è chiusa. Però esportarsi lo stesso. Probabilmente potrebbe generare dei problemi in fase di stampa. Perché creerebbe un po' di casino nella lettura del file di STL perché è bucato. Tutti i file dovrebbero essere chiusi. Un'altra cosa da non fare, come già hanno fatto invece in questo file, è lasciare le facce invertite. Queste facce che hanno un colore differente dalle altre sono considerate interno dell'oggetto. Erano nell'oggetto già che io ho scaricato considerate interne. Invece queste sono le esterne. Le esterne devono essere tutte bianche. Le interne invece devono essere tutte così un po' azzurrine. Inverto ancora le facce e vi faccio vedere anche che l'interno ha un colore differente. C'hanno una tonalità un po' più azzurrina di quelle esterne. In MeshMixer vengono rilevate per esempio. Proviamo a vedere e ricaricare il file in precedenza. Io inserisco l'STL, append, replace, lo carico da nuovo. Le pareti in MeshMixer vengono evidenziate di un altro colore e sono di rosso. Quelle interne. Quelle interne sono evidenziate di rosso. Quelle che io ho modificato in SketchUp, queste erano invece le originali. Probabilmente se le sono dimenticate. Un altro dei problemi che ha questo file qua probabilmente sono i lati, vedete, quelli evidenziati di rosso. In SketchUp possiamo andare a vedere che problemi ha e ripararli. I problemi sono questi. Che l'oggetto non è stato intersecato correttamente. Qua una parete non è stata mischiata neanche con l'altra e quindi non è diventato un tutt'uno ma sono due cose separate. MeshMixer mi dice guarda che qua ci sono dei problemi. Che problemi? Vai a vedere. Vai a vedere proprio lì. Io vado a vedere quel programma che l'ho generato che potrebbero essere altri programmi anche tipo Cinema 4D, Fusion, Rhino. Io vado lì e lo modifico. Tante volte mi è capitato che un cliente mi spedisse un disegno fatto proprio in origine così e dovessi rattoparlo poi. I file vanno progettati bene e bisogna capire queste due differenze. Che bisogna sempre intersecare correttamente i file e quindi poi andare a eliminare tutte le pareti anche interne che vedete qua. Vi ho già fatto vedere con un tutorial come si interseca un oggetto correttamente. Questa formula deve essere applicata per ogni tipo di oggetto anche complesso. Cosa da non fare è non intersecare gli oggetti correttamente e controllare anche che non ci siano buchi e seconda cosa da non fare è non lasciare le facce invertite.